Quella delle famiglie con disabilità è l'emergenza nell'emergenza, tant'è che se ne è occupato anche il decreto economico del governo che ha inserito alcune voci a questo riguardo, ma che non sono la soluzione del problema. I sei giorni in più della 104 per marzo ed aprile non sono la risposta adeguata ai bisogni dei disabili. Il decreto cura Italia non basta alle persone con disabilità e alle loro famiglie, soprattutto ai loro caregiver familiari che li assistono e curano. A dirlo è il coordinamento nazionale famiglie con disabilità. In un contesto, quello delle famiglie dove è presente un disabile, c'è la necessità di dover coniugare un'esigenza di sicurezza degli operatori che si recano nelle abitazioni dei malati e i malati stessi e le loro famiglie che vedono in questo un supporto imprescindibile. Un universo però fatto di tante situazioni molto diverse sfumate tra loro che necessitano di risposte personalizzate.